Uno spettacolo che va alla ricerca di talenti e si struttura come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip-hop e danza classica. Lorella Cuccarini ha dovuto affrontare un lutto improvviso, e tutti i componenti del cast di Amici di Maria De Filippi si sono riuniti attorno a lei. Erano tante le persone che volevano bene a quest'uomo che ha lasciato sicuramente un ricordo positivo, anche se ha provocato tanto dolore col suo addio improvviso. Tratta del costumista e scenografo Luca Sabatelli, al quale la Cuccarini ha riservato un post splendido su Instagram. Luca, genio puro e amico, mancherai tantissimo. A te devo tutti i costumi delle mie sigle più famose, oltre 15 anni di collaborazione. Sapevi trasformare un tessuto qualunque in un abito che avrebbe potuto indossare una star. Ci eravamo visti lo scorso anno a teatro. Ricorderò per sempre il tuo dolcissimo abbraccio, e le tue parole. Fai buon viaggio. Al commento si è unito anche Rudy Zerbi che ha postato un cuore spezzato, oltre tantissime persone comuni che ricordano con affetto questo splendido personaggio. Luca Sabatelli è nato a Firenze il 3 giugno del 1936, ed è stato un costumista, e scenografo di grandissimo valore. Dopo essersi diplomato all'Accademia di Belle Arti, di Firenze ha collaborato per produzioni italiane tra teatro, cinema e televisione, ottenendo grandi successi, e riuscendo a raggiungere ottimi risultati.